Buon pomeriggio Fiorellino Fiorelline, oggi è il giorno che facciamo il nostro anniversario, però domani, dando questo, lo metto, è il 15 il nostro anniversario, 35 anni, però oggi abbiamo fatto il pranzo perché è verità troppo lato, quasi a fine mese, la prossima domenica, fra altri 7-8 giorni, e va bene, dopo la sigla vedrete il pranzo e poi mi vedrete a me dopo le foto che ho fatto, mi vedete che sto al ristorante e dopo vi faccio vedere quello che ho ordinato la mia figlia, l'orecchini che vi dicevo e poi c'è l'anelli che mi metterò uno io, uno guadino, e il regalo che mi ha fatto per anniversario. Va bene, io adesso vi lascio via la sigla e vedrete le foto. Ciao a dopo! Ciao a dopo! Così da qui, così ce lo so. Va bene, un paio di orecchini sono questi che ce li ho indosso, che muo, tiro su con il cerchietto e vi li faccio vedere. Sono a clip, non sono col fuoco, eh! Sono a clip. Vediamo, mettiamo qui vicino. Questi rotondi qua. E poi, perché mi li sono messi subito. E poi, questi altri orecchini qua. Allora, questa è la collana che mi ha fatto lei. La levo e vi faccio vedere la collana. Da acciaio, mi sembra, dovrebbe essere. Questa qua davanti, non lo so, vabbè, ma adesso comunque è meglio levarla quanto mi davo, roba così. con la R e c'è questo col fiore qua. Bello, questa collana. Ok, carina, sì. Questa. Poi, questi sono i secondi orecchini. Io ho comprato questi qua, lo sono di grandi, e questi qua, che sono piccolini, piccolini. e sono sempre a clip, e poi questi sono fatti uguali. Vi vedete, li ammettere quando mi metterò. Orecchini. Perché cambio, state volte, state volte, state volte, state volte, state volte. Sono più piccolini, molto più piccoli. Con fronte a questi qua, sono carini, questi due, da di me, sono quadrati. E poi, vabbè, le clip, il popolare, il topo, per fare e i due orecchini, per me. Sono fatti così. Poi, mettiamo qua, mettiamo tutte e due paie, i due orecchini. Mo ho messo questi, poi, metterò, un altro giorno, un altro tipo. Questi sono grandi. questi sono più piccolini, perciò, no, poi vi faccio vedere, i damelli, che guerrino, se sento quelli più belli. Vero guerrino? Eh. Ok, queste sono, dopo metterò questi, quando veniremo, metterò questi, qua, a posto, detto alla scatola. questi sono l'anelli. Sono due anelli, uno dorato, e uno, d'acciaio. Sì. Guerrino, si è scelto questo qui dorato, sempre le cose, carine, Guerrino, vero Guerrino? Ecco, questo qua. E questo è dorato, però se l'è scelto lui. è un po' di due, è un po' di due, è un po' di due. Eh, voglio rubare un po' di due, Guerrino. Ok, Guerrino, si è scelto quello più bello. Te, Guerrino? È molto grande. E questo qua, sono fatti così, sono carini. Il coperchio? La che è? Il coperchio? Carino questo qua. Sono d'acciaio, io non se ne sono. Il coperchio? Non si fa. Va bene, io adesso vi lascio, perché è finito questo video, e ciao, a prossimo video. Ciao. Ciao. Si larga qua, a misura. Ciao. Io ho messo questi qua, che sono fatti così, sono più piccoli, e quando mia figlia gli arriva noi qui, e mi faccio fare quella carta, come mi fa lei, faccio questi qui, questo paio qua, e quelli rotondi che mi faccio vedere prima. video più, Noi. 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 Grazie a tutti.